Sta per partire la prima selezione al ristorante Laia di Montescudaio a Pisa in TV Intimo Contest, la passerella televisiva per modelli emergenti. Io sono qui con alcune di loro che tra poco si andranno a preparare. Che cosa prevede questo concorso? Questo concorso prevede appunto, come dicevo prima, una passerella televisiva. Tre fasce per ogni selezione della giuria, le prime dodici che arriveranno in finale faranno il calendario di InTV. Quindi sentiamo alcune, come si chiamano? Giada, Sara, Ilaria, Erika, Delicia, Martina, Sindia, Serena, Tonia. Pronte? Ci siamo, no? Ora sono ancora vestite con il cappotto, però poi dopo le vedremo sfilare qui al ristorante Laia a Montescudario. Questa notte sarei mia ancora, fino a che la luce arriva allora, tanta sera. Perché hanno cantato, hanno suonato, hanno messo fuori tanti pezzi molto belli, qualcuno bello, qualcuno bellissimo, neanche uno brutto. Perché erano tutti quanti veramente dei pezzi di repertorio davvero straordinari questa sera. Siamo qui perché c'è una festa particolare, perché quando si comincia si è tutti un po' emozionati, quando si comincia si è sempre un po' così in ansia, un po' preoccupati. Invece ci sono persone che sono del mestiere e quindi possono festeggiare alla grande. Ah, vado a salutare anche di là, dici Paolo. Salve, fatevi sentire, di là non vi sentono. Un, due, tre. Perché Fabio, Alessio e quel ragazzino di Franco sicuramente cominciano questa sera un nuovo percorso che diventerà per molti di voi un percorso familiare, visto che comunque qui c'è un'atmosfera molto bella e sicuramente stasera si comincia, ma saranno tante le occasioni in cui magari si tornerà all'interno di questa struttura. Grazie a tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Here comes the sound 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 Here comes the sound